Vici Youtube, Pepino Audace, ragazzi, allora, oggi vado a dare le pagelle di Audace Cerignola Potenza, ragazzi, indescrivibile la vittoria di ieri, di Di un Cerignola che è tornato, ragazzi, un Cerignola che non vinceva da nove partite Ed è tornato oggi, e quindi, insomma, è importante questo Cerignola Il gol di Vutai al 92esimo, con assist di Russo, ragazzi, è stata anche una bella domenica per La Rossa, un bel buongiorno con La Rossa che fa doppietta con Sainz e Leclerc Allora, andiamo con le pagelle, partendo da Krapikas, voto 6 e mezzo Va, ragazzi, non è che si sia visto Krapikas ieri, però, insomma, qualche parata l'ha fatta Ma, vabbè, do 6, ragazzi, perché, comunque E, insomma, Krapikas che si è impegnato poco ieri Passiamo al trio difensivo, Santiago Vincentino, voto 6 più Anche lui, ragazzi, ha corso tanto, ha fatto la differenza Santiago è veramente un giocatore che si sta adattando Anche al nuovo allenatore E anche nella nuova difesa 3 Quindi, importante per Santiago Poi, vado con Gonnelli, voto 6 E Coccia Che non si sa se ha giocato terzino Sì, ha giocato terzino sinistro O Russo, Coccia, si sono invertiti Quindi Coccia, voto 7 e più, ragazzi, il gol al 45esimo Ma ha fatto la differenza, l'ex giocatore della potenza Russo, voto 7, ragazzi, l'assist Ha fatto una grande partita, Luca Russo Il migliore in campo, sicuramente Dopo Coccia e Vutai Passiamo al centro campo Tascone, voto 6 più Anche lui, ragazzi, è tornato Ha fatto un gran primo tempo Ma anche il secondo tempo, inizio del secondo tempo, molto bravo Poi, Zac Ruggero, voto 6 più Poi, Tascone, l'abbiamo detto Galo Campomaggio, voto 7 Anche lui è una buonissima partita Galo Campomaggio, poi Malcore, voto Voto 6 D'Andrea, voto 6 più Poi, sono entrati Allegrini Voto 6 Vutai, voto 8 Ragazzi, 8, a mio parere, è il migliore Il gol al 94esimo E poi Vado a concludere i nomi Di queste pagelle, ragazzi Pagelle un po' più brevi oggi E insomma, ragazzi Questa settimana, oggi andrò a registrare Carriera allenatore Real Madrid con Pisto Vediamo se riusciamo in questa settimana A portare Poi anche Formula 1 La Bahrain Prima gara del Bahrain Con Pepino Audace Che è tornato In Ferrari E quindi ci saranno un po' di episodi A registrare Ragazzi Sotto Richiesta Anche della professoressa Che è stata ospita al ToroCast Andrò anche a fare una lezione sui dialetti Quindi vediamo Se riuscirò a portare un episodio Sulla lezione dei dialetti Allora, per quanto riguarda le ballerine Andrò a fare un episodio Vediamo Quindi vado a concludere le pagelle Bella a tutti Pepino Dash Allora, per quanto riguarda le ballerine Allora, per quanto riguarda le ballerine